Buonasera a tutti! Allora, siamo pronti? Facete un mangiadino! Felice Shoshamok è un'eredità e una rendita. Dovete recitare tutto quanto Shoshamok. Non c'è scampo. Non c'è scampo. Edoardo, la settimana prossima papà Nilo lo fai tu. Fattarai battuta di Dine e così proviamo. Andrà a finire che mi farai le scarpe. Io ti voglio bene. E poi tu sei figlio di seduto. E perché tu no? Tre sono i nostri figli. L'eredità si divide in parti uguali tra loro. Papà! Me lo devi promettere. Quando torniamo a settembre ci riprendiamo Peppino con noi. Papà! Noi siamo i fratelli da Filippo. E non ci dobbiamo mai dividere. Guardate qua. Ha copiato anche l'illustrazione di D'Annunzio. Basta! Basta! Abbasso i contraffattori! Evviva Gabriele D'Annunzio! Evviva Gabriele D'Annunzio! Scarpetto! Si aspettava di essere rinviato a giudizio. La mia non è una contraffazione, è una parodia. Fanno causa a me, come se fossero delinquenti. E state rimboscate. A forza mia, è un pubblico! Lo sace, non sono nessuno. Ma so viva. Gloria ai nostri fischi e a facci chi ci vuole male. Condannando me, condannate un'intera forma d'arte! Facciamo zitta zitta. Per me tutti sti discote sono vane. Non esistono teatri, più o meno d'arte. Esistono gli artisti. Per me tutti sti discote sono vane.